Benvenuti a tutti qui Balconetv Trento, io sono Fabrizio e oggi trasmettiamo dalla terrazza del rifugio Bindesi e ci troviamo in compagnia di JMT. JMT ci farà ascoltare il suo brano Berlin. Buon ascolto. Bindesi e ci troviamo. Buon ascolto. 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 Yeah Jack Ciao Jack Allora noi ti conosciamo ormai sei un amico di vecchia data ti sei esibito qua sul balcone TV Trento ormai sei stato uno dei primi con la tua band di cui sei frontman e sono i Bevers from Mars che salutiamo e invece questo è il tuo progetto solista puoi raccontarci due cose a riguardo? Allora sì il mio progetto solista appunto come JMT è nato a settembre del 2017 quando mi sono trasferito da Trento a Milano per iniziare l'università e praticamente per la prima volta nella vita mia mi sono ritrovato a vivere da solo e quindi avevo un sacco un sacco di tempo per scrivere, per lavorare ai miei brani come mai prima d'ora e ho iniziato a sperimentare con la musica elettronica e il rap da una parte e a mescolarle con la chitarra con atmosfere più jazz più soul e sono nati diversi brani che ho deciso di registrare quindi mi sono messo alla prova ne ho fatto uscire uno il primo a gennaio Get Noticed e ho visto insomma ho riscontrato un buon successo tra i miei amici e quelli che seguivano insomma i progetti dei Bevers prima e quindi ho registrato questo album che si chiama The Blue Hour appunto e l'ho registrato con musicisti e amici qua di Trento e violinisti, sassofonisti, cantanti, rapper insomma vari ambienti musicali diversi ed è nato un lavoro molto carino che ho deciso appunto poi di portare in tour in Germania molto bene infatti a proposito della Germania ti chiediamo il perché del brano Berlin sì il brano si chiama appunto Berlin ed è appena uscito tra l'altro siccome non fa parte dell'album è uscito come singolo proprio oggi e si chiama Berlin appunto perché l'idea iniziale il riff di chitarra è stato scritto mentre ero a Berlino ho fatto poco più di una settimana a Berlino suonando in vari locali portando in giro l'album che è uscito al mio ritorno dove possiamo trovare il tuo album? dacci tutti i riferimenti web allora sì l'album lo potete scaricare gratuitamente in formato digitale da jmtmusicofficial.com oppure potete ascoltarlo in streaming su Spotify, Apple Music, SoundCloud e presto arriveranno anche dei video su YouTube very good seguite Jack JMT anzi noi ormai lo chiamiamo Jack ma è JMT in questo progetto solista beh noi Jack se vuoi aggiungere qualcos'altro salutare ti do il microfono certo vorrei ringraziare anche per questa seconda volta l'area musica e Balconi TV di Trento perché dà sempre l'opportunità di suonare i propri brani in questa bellissima terrazza insomma di farsi conoscere quindi grazie grazie a voi davvero grazie a te Giacomo Jack bene allora noi vi ringraziamo salutiamo Jack che è venuto a trovarci JMT e ringraziamo Rifugio Bindesi che ci ospita a PPM che permette a Balconi TV di esserci e noi a me non rimane altro che salutarvi con il nostro consueto e amato stay with us grazie a tutti 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 grazie a tutti